Emanuele e Gesù avevano giocato tutto il pomeriggio senza fermarsi mai. Gesù era vivacissimo e molto simpatico. Era molto divertente stare con lui perché ne trovava sempre una nuova e con scherzi e battute c'era da ridere a crepapelle. E poi era molto in gamba a fare un sacco di cose, arrampicarsi velocissimo sugli alberi, tirare con la fionda, colpire delle pietre anche molto lontane, suonare un piccolo strumento affiato. Gli aveva anche fatto vedere come si costruiva lui stesso dei piccoli giocattoli con il legno. Il legno era quello del laboratorio da falegname di Giuseppe che in quel momento non c'era. Emanuele capì che Giuseppe doveva essere il papà di Gesù ma si stupì che lo chiamasse per nome e non lo chiamava il mio papà ma non lo so chiedere nulla. Finalmente mentre il sole era già un po' basso all'orizzonte arrivarono tra felati e tutti sudati da una lunga corsa nei prati. In casa era arrivata la mamma di Gesù e le attendeva con la merenda pronta e un catino di acqua limpida per rinfrescarsi. Emanuele ebbe una nuova grande sorpresa. Guardando la mamma di Gesù si accorse subito che assomigliava moltissimo a suo figlio. Erano come due gocce d'acqua. Era molto bella e ancora molto giovane ma soprattutto quando lei lo prese in braccio per aiutarlo ad asciugarsi la faccia e a rimettere a posto la tunica Emanuele sentì nel suo cuore una dolcezza infinita. Restò qualche attimo in più fra le sue braccia per farsi coccolare un po' e gli parvi quasi che quella fosse anche la sua mamma, la sua vera mamma. Lo disse a Gesù mentre egli lo accompagnava per un pezzo di strada verso il ritorno. Gli disse anche che gli sarebbe piaciuto portare quella mamma nella propria casa perché fosse lei a metterlo a letto, a raccontargli qualche favola e a cantargli la ninna nanna proprio come faceva con Gesù. Gesù sorrise contento e disse che il cuore della sua mamma era nel cuore di ogni mamma e che se lui Emanuele avesse voluto ancora più bene alla sua poco per volta avrebbe sentito la stessa dolcezza.